è il giorno della verità oggi si decide oggi si capisce oggi si comprende perché non ci sono altre chance non ci sono altre possibilità dentro o fuori possibilità di giocarsi due trofei o uno possibilità di vincere la coppa italia oppure no ci sono tanti giri di parole non ci sono tante chiacchiere questo è uno a uno all'andata tra eventus e inter all'allianz stadium con gol all'ultimo secondo di romero lukaku su rigore procurato da un errore al minuto 93 causato da gleson bremer intrecci corsi ricorsi storici di quella che è stata anche una trattativa estiva in cui bremer sembrava destinato a vestire la maglia nerazzurra e poi invece fortunatamente aggiungo io eccolo qua in maglia in casacca bianconera all'andata un pareggio tra le due squadre che pareggiano meno in serie a soltanto tre pareggi per l'inter 5 per la juventus che condivide questo secondo posto in classifica insieme alla roma sarà una sfida tosta perché secondo me il livello delle due squadre è molto equidistante sono due squadre che si assomigliano sia per stato di forma sia secondo me per valori di rosa sono secondo me le due squadre migliori per costruzione per nomi della serie a poi il fatto che il napoli e il milan nelle ultime due edizioni abbiano vinto significa che sono stati più bravi a valorizzare le caratteristiche dei singoli io prima di tutto vorrei partire da quella che è la probabile formazione della juventus e quindi ci aspettiamo un perini in porta portiere di coppa e vorrei passare avanti perché qua c'è poco da dire difesa brasiliana tranne alexandro che a quanto pare non partirà dall'inizio nemmeno gatti rugani che sono stati i due titolari nella partita appunto contro il napoli quindi contro napoli che abbiamo giocato con una difesa 4 tra virgolette con quadrado e danilo come terzini gatti rugani centrali ecco nessuno dei due andrebbe a prendere parte a questa partita che sarà la 99esima partita in panchina per massimiliano allegri dal suo ritorno alla juventus e come dicevamo nel video di ieri il fatto che non ci sia continuità di scelte beh fa un po storcere il naso sicuramente e questa è proprio un'indicazione nel vero senso della parola anche se sappiamo bene che le scelte di formazione della partita di serie a col napoli sono state fortemente influenzate da una volontà di risparmiare alcuni giocatori come per dire vlaovic che è entrato al minuto 89 e che oggi non sarà della partita per via di questa di questo infortunio alla caviglia distorsione alla caviglia che non sembra gravissima però lo terrà lontano dai campi da gioco per oggi o comunque non partirà da titolare vedremo se almeno sarà convocato ma ieri allegri era abbastanza negativo da questo punto di vista bonucci bonucci al centro della difesa quando gioca bonucci quando gioca bremer in quella posizione fa tutta la differenza del mondo perché il ruolo viene interpretato con caratteristiche differenti bremer è un difensore che attacca è un difensore che anticipa è un giocatore che gioca in maniera offensiva in quel ruolo lì bonucci invece un giocatore che invece preferisce guadagnare metri preferisce arretrare preferisce avere una copertura maggiore sull'avversario quindi proprio due modi completamente diversi di intendere il ruolo di centrale della difesa 3 bonucci che da un po che non gioca bonucci che sinceramente mi sorprende come nome vedremo sperando che possa fare una prestazione stile lugani l'altra sera con osimen dove è stato assolutamente impeccabile però sorprende secondo me il nome di bonucci come potenziale titolare in una partita di questo grado di importanza locatelli rabbio due titolari a centro campo ancora niente fagioli bensì miretti un dispiacere ancora una volta ma di questo ho già parlato più di un'occasione in questo momento allegri vede meglio miretti non vorrei mai pensare che quelle lacrime possono aver bocciato definitivamente fagioli ma in questo momento sembra proprio essere così fagioli probabilmente secondo allegri non è pronto dal punto di vista mentale a giocare ma è sembrato che l'ingresso l'innesto di fagioli all'interno dei titolari in questa juventus abbia cambiato in maniera significativa il volto della squadra e se penso a una partita con l'inter risolta proprio da fagioli ecco chiusa proprio da fagioli sembra un giocatore che potrebbe far la differenza kostic che avrebbe bisogno di riposare ma non riposa e parte ancora lui largo in quello che dovrebbe essere un 3 5 2 disciglio largo a destra quadrato squalificato per tre giornate il grande limite di costruzione della nostra rosa non abbiamo esterni destri e desciglio sicuramente si può fare lo stesso discorso che è stato fatto per bonucci è un giocatore che in questo momento non vede il campo da tanto un motivo ci deve essere se probabilmente non sta bene dal punto di vista fisico e quindi difficilmente potremmo chiedere ad esciglio una prestazione di super livello per cercare di qualificarci non una un dibattito da poco secondo me a maggior ragione per una squadra come la juve che va molto sugli esterni e sfrutta molto le corsie laterali per andare al cross se kostic non è in forma particolarmente in questo momento e decidio nemmeno è quello il nostro punto forte concedetemi di essere particolarmente preoccupato se poi aggiungiamo che bonucci tende a portarsi in area i difensori e che ha sempre sofferto contro giocatori strutturati fisicamente come duvan zapata o romelu lukaku la frittata potrebbe essere fatta ma ovviamente queste sono solo discorsi in via ipotetica di un tifoso della juve che ha dei timori leggendo quelli che sono i giocatori che dovrebbero scendere in campo questa sera nella partita con l'inter di maria sulla tre quarti giocatore dal quale mi aspetto tutto perché sappiamo bene che la manovra offensiva della juve passa praticamente la di maria e milic proprio per via degli dell'indisponibilità di vlaovic di moise ken e vedremo probabilmente allegri vorrà tenersi chiesa come ricambio e quindi toccherà milic e di maria con milic che sarà costretto a fare altri minuti dopo quelli che ha giocato l'altro giorno quasi 90 anzi 90 abbondanti considerato il recupero al primo tempo contro il napoli in campionato e quindi ragazzi sicuramente non il miglior momento possibile per per la juventus per andare a giocare questa partita e infatti voglio anche cercare di fare un attimo il quadro dal punto di vista appunto del momento perché questo è l'aprile della juve la prima partita in aprile da juventus è stata juventus verona 1 a 0 vittoria per 1 a 0 contro il verona pareggio con l'inter in coppa italia il 2 a 1 dell'alassio nei confronti della juventus l'1 a 0 della juventus nei confronti dello sporting l'1 a 0 del sassuolo sulla juventus l'1 a 1 tra sporting e juventus che ha portato la juve in semifinale d'europa league la sconfitta per 1 a 0 contro il napoli dicevamo ieri sono sette partite con sei gol subiti e cinque segnati poco troppo 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 poco per quello che doveva essere il momento migliore della juventus un mese difficile per la juventus in cui andarsi a conquistare tanti traguardi sul campo dal punto di vista della classifica in serie a le cose non vanno benissimo chiedo scusa perché ieri parlavo di quattro sconfitte nelle ultime cinque mi sono lasciato trascinare dalla parola d'allegri invece sono tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato come vedremo anche dopo però signori parlare di juventus si informa in questo momento secondo me è utopia la cosa che ci può far sperare un attimino dopo tutta questa negatività è che pure l'inter non se la passa benissimo quindi una partita tra due squadre che non stanno bene a questo punto di vista inter che ha fatto ha perso la prima di aprile per 1 a 0 contro la fiorentina inter che ha pareggiato appunto 1 a 1 contro di noi per poi pareggiare con la salerintana per 1 a 1 con quel gol di candreva all'ultimo istante per poi vincere 2 a 0 a lisbona contro il benfica partita clamorosa non mi aspettavo che l'inter potesse passare il turno e potesse vincere a lisbona invece è così l'inter si porta insieme ai finali champions 1 a 0 del monza nei confronti dell'inter prima della partita che finisce 3 a 3 a san siro e che porta appunto i nerazzurri a giocarsi questa euro derby e poi l'inter che vince l'ultima gara di campionato prima di questa finale di coppa italia per 3 a 0 nei confronti dell'empoli con un super rumelo lucaco che è stato anche un po il giocatore più discusso degli ultimi giorni quindi se andiamo a vedere un attimo la classifica di serie a vediamo che juventus e inter sono abbastanza simili come squadra perché 59 punti la juve 54 per l'inter c'è una lotta legata alle prime quattro posizioni veramente in velocità con atalanta inter roma milan juve e lassio che bene o male dovranno giocarsi gli ultimi tre slot uno conquistato dal napoli che andrà a festeggiare forse lo scudetto già in questa in questo fine settimana quindi inter e juve che sono due squadre molto simili dal punto di vista di punti raccolti l'inter dicevano prima la squadra che ha pareggiato meno gare in serie a ed è una fortuna per loro perché ne hanno perse 11 e se sono lì è proprio perché ne hanno pareggiate poche e le altre al massimo le hanno vinte inter che nelle ultime prima dicevano la juve 5 nelle ultime 5 in serie a la juventus ne ha perse 3 ne ha vinte 2 l'inter messa addirittura peggio perché nelle ultime 5 ne ha persa 3 ne ha vinta una e ne ha pareggiata una quindi sarà una sorta di guerra tra poveri da questo punto di vista tra poveri tra molte virgolette perché come dicevo prima juventus inter secondo me sono le squadre con le rose tanto più costose della serie a sono hanno le rose con più costi di gestione in assoluto all'interno del nostro campionato e quindi questo deve essere anche una sorta di motivazione deve essere anche secondo me una volontà da parte di tutti e due di cercare di concludere l'annata con quanti più trofei possibili da alzare al cielo l'inter sicuramente sarà interessata non solo a questa partita ma sarà anche interessata ad altre relativa all'europa quindi avrà anche la testa orientata da un'altra parte ma la partita d'andata contro il milan si gioca il 10 di maggio e quindi ci sono altre due settimane in cui ci sono altre tre partite nel mezzo toste anche per l'inter perché ci hanno la lazio l'ella sverona che in questo momento è lì lì che spera in una salvezza che qualche settimana fa poteva sembrare soltanto utopia e poi la roba appunto prima prima del milan sarà tosta per loro tosta per noi la formazione non mi convince tantissimo ma come al solito noi arriviamo nel momento clou della stagione in cui quello non sta bene questo non sta bene quello non sta bene quell'altro non sta bene questo è da valutare questo non lo so quanti minuti c'ha e che altro si può dire di questa cosa se non che ormai tutti gli anni siamo abituati a questo copione a recitare questo copione a vivere questa situazione e quindi forza juve stasera perché la juve può assolutamente assolutamente qualificarsi per la finale di coppa italia ma proprio 100% nella possibilità non ve lo nascondo sarà una gara tosta difficile e con alcuni riscontri particolari proprio a partire da quelli che sono stati i giocatori che sono stati scelti o che probabilmente saranno scelti da massimiliano allegri sarei stato curioso di vedere chiese di marina attacco però capisco anche che allegri voglia tenersi un cambio di questo tipo vista anche l'assenza di ken blauvic e quadrato